Da qualche parte nel profondo della galassia Space Ghost insegue Kruger, il famoso pirata delle stelle. Space Ghost? Kruger si sta dirigendo verso quella nebulosa! Non lo troveremo mai lì dentro. Tentiamo con un ultimo tiro. Ora! Ormai è finita Kruger! Non ancora, Space Ghost! Non mi hai fatto nemmeno il solletico, Kruger! Tieni, provare uno dei miei! Quello era il mio raggio neutralizzante! I poteri dei tuoi bracciali sono scomparsi! Ed ora avrai l'alto onore di essere il primo a sperimentare il mio annichilatore, rubato da poco alla pattuglia galassica! Non hai via di scampo, Space Ghost! Che diavolo! No! Ben fatto, ragazzi! Senza i tuoi raggi di energia, Kruger, non sei altro che un criminale da due soldi! Bell'atterraggio, Kruger! Direi che Blippe ha fatto fare a Kruger una vera figuraccia! Nelle armi di Kruger c'è abbastanza energia per alimentare un pianeta. Cos'è questo? Cercherò di scoprirlo. Sono un genio scientifico, sapete? Space Ghost! Aiuto! Un genio scientifico, eh? Beh, anche i geni a volte possono commettere uno sbaglio. Questa roba è troppo pericolosa per lasciarla in giro. Space Ghost! Stiamo andando dritti contro una specie di nube radioattiva! Non abbiamo il tempo di girare! Reggetevi forte! Non è successo niente! Per fortuna! Voi due controllate la radioattività, io controllo Kruger. Che cosa vuoi, Space Ghost? Volevo solo assicurarmi che il mio ospite stesse a suo agio. Crevevo che tu fossi più alto di me! Ora sei più basso! Premi quel rivelatore di Ioni, Jace! Non ci arrivo! Che strano! Non ho mai avuto problemi del genere prima! Jace, non mi sento molto bene! Oh, mi gira la testa! Devo scoprire cosa sta succedendo! Ehi! Ma cosa ci succede? Deve essere stata quella nube radioattiva! Ma Blipp è ancora di dimensioni normali? Anche Kruger! Evidentemente influenza solo gli umani! Inserisci il pilota automatico! E cerchiamo di trovare un antitodo! Per fortuna, Space Ghost non si è impadronito di tutte le armi! Spero che questo funzioni! Se continuiamo a rinficiolirci diventeremo più piccoli dell'orecchio di una pulce! Questa volta vedrai che non fallirò, Space Ghost! E' tutto quello che sai fare, Space Ghost! Hai ragione! Non sono più al massimo della mia potenza! Finite l'antitodo! Io lo terrò occupato! Molto bene! Sembra che i tuoi giorni da eroe dello spazio siano finiti! Io non ci conterei, Kruger! Dove sei andata a finire, piccola peste? Ehi! Ma che cosa? Bleep! Mi è venuta un'idea! Come procede, sorella? La mistura è quasi completa, ma deve essere energizzata e non abbiamo l'attrezzatura per farlo! Beh, spero che Space Ghost si faccia venire un'idea! Ed ora che diavolo vuoi? Non ci vedo! Non ci vedo! Era quello che volevamo, Kruger! Ed ora, Space Ghost! È arrivato il tuo momento! Accidenti! Il pilota automatico è fuori uso! Già, salva l'antidoto! La gravità dell'astronave è impazzita! Attento! Dobbiamo portarla a Space Ghost! Adesso, Space Ghost! Abbiamo del lavoro da finire, io e te! Va bene, Space Ghost! Ora basta con i convenevoli! Space Ghost, ecco l'antidoto! Bisogna energizzarlo! E adesso smettiamola con questo gioco! Space Ghost! Space Ghost! Vivo! Proprio così, Kruger! Il tuo raggio anichilatore era giusto quello che ci serviva per energizzare l'antidoto! Ci penso io, Bleep! Sono proprio contento che abbiamo riacquistato le nostre dimensioni! Ehi! Per fortuna era solo il suo riflesso! Quella è la dimensione giusta, Jace! Non importa se sia grande o piccolo, ma nessun essere malvagio può sconfiggere Space Ghost!